Oggi, mio caro figlio, sento il bisogno di condividere un messaggio speciale con te. Voglio che tu celebri ogni successo, non importa quanto piccolo possa sembrare. Riconosci lo sforzo e la dedizione che metti in ogni impresa, poiché le tue realizzazioni sono molto significative e degne di essere celebrate. Il tuo percorso è pieno di vittorie e momenti di crescita, ed è importante che tu apprezzi la bellezza che contiene. A volte, può sembrare che le cose non cambieranno mai, che le difficoltà siano insormontabili, ma ricorda, mio figlio, che non c'è montagna che Dio non possa spostare, né muro che lui non possa abbattere. È fedele in ogni momento, anche quando non comprendiamo completamente i suoi piani. Mentre cerchi i tuoi sogni, non sentirti affrettato a fare ogni passo. Impara ad apprezzare ogni fase del processo, praticando la consapevolezza e trovando soluzioni creative lungo il cammino. Dio ti ha donato talenti e abilità uniche, e credo che raggiungerai i tuoi obiettivi al momento giusto. Ringrazio Dio per la speranza che ci offre ogni giorno. Non importa quali sfide affrontiamo, Lui ci ricorda sempre che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando ci avviciniamo a Lui. È la nostra fonte inesauribile di forza e conforto, nei giorni di gioia e nelle notti di tristezza. Ricorda sempre che Dio sarà al tuo fianco, pronto ad accoglierti e aiutarti. Caro Dio, oggi ti chiedo di riallineare il mio cuore. Insegnami ad avvicinarmi sempre di più a te, rafforzando la nostra connessione e la fiducia reciproca. Prego nel nome di Gesù, sapendo che ascolti le mie preghiere e rispondi sempre secondo il tuo perfetto piano. Amen. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi che fate parte di questo canale. È una gioia condividere parole di speranza e fede con ciascuno di voi. Continuate a seguire i nostri messaggi ispiratori e edificanti, poiché insieme possiamo crescere spiritualmente e trovare forza nelle parole divine. Che Dio benedica tutti voi oggi e sempre. Che il suo amore e la sua bontà accompagnino ogni passo del vostro percorso, guidandovi verso la felicità e il successo. Non dimenticate di lasciare un Amen nei commenti, condividendo la luce di questo momento con tutti intorno a noi. Che la pace e la grazia di Dio siano con voi. Alla prossima Benedetta Messaggio.